Antonio Boucher, ex giocatore dell'Empoli, adesso nei quadri tecnici della Società Azzurra. Che campionato è stato quello che si sta per concludere, quello della Serie B? Ti posso dire che è stato un campionato abbastanza equilibrato. A parte il Palermo che era partito un po' così così, però si sapeva la forza di questa squadra. Ci sono stati tanti allenatori giovani che si sono messi in luce in questo campionato di Serie B. Qual è stato secondo te quello più meritevole? Uno su tutti ti posso dire quello del Crotone, Drago, che comunque io l'ho visto l'anno scorso quando ho fatto il corso a Coverciano, che lui faceva il Master. Ne parlavano bene già quando ero lì al corso, che era uno degli allenatori con idee importanti, con qualità importanti e poi alla fine ha dimostrato. il Crotone ha fatto, e penso che nessuno si aspettava, il campionato del Crotone. Ha fatto un buonissimo campionato. Ma anche l'allenatore del Lanciano, Baroni, allenatori giovani che comunque si vogliono mettere in mostra, vogliono dare le loro idee al calcio. Ed è giusto che sia così. Basta vedere quello che ha fatto Conte alla Juve, un anatore che nel giro di 3-4 anni ha fatto quello che ha fatto, quindi vuol dire che comunque a volte quando si dice diamo un po' spazio ai giovani, quando arrivano a questi risultati, ripeto, è sempre importante. Anche perché in tutto questo poi c'è il valore, la valorizzazione dei giovani, che secondo me nel calcio di oggi deve essere il pilastro portante per far sì che il calcio diventa come qualche anno fa. Hai parlato di giovani, hai parlato del Crotone, uno dei giovani naturalmente è Bernardeschi, uno di quelli che si è messo maggiormente in luce. Però parlando di altri giocatori giovani che secondo te sono pronti al salto, chi c'è? Ma guarda, ce ne sono parecchie, però è normale, io ti posso dire uno su tutti, quest'anno è sulla bocca di tante squadre, Rugani dell'Empoli. Norbita Juventus? Norbita Juventus, magari è una risposta scontata, però se ti devo dire dei giovani, Rugani secondo me è quello che comunque ha dimostrato, in effetti di saperci fare e magari di andare a giocare in una categoria che è la Serie A per vedere davvero che pasta è fatta e quindi in Bile ha dimostrato. Una squadra di medio livello in Serie A può fare il titolare? Ma secondo me sì, anche perché poi bisogna vedere un po' come vengono gestite, a volte anche anni passati, giovani importanti dove magari dovevano esplodere e alla fine si sono un po' persi. La bravura deve essere dell'allenatore che gestisce questi giovani e di gestirli nel modo giusto, nei tempi giusti. E quindi ecco, se Rugani poi, non so, adesso le intenzioni che avranno i dirigenti, andrà via, rimarrà a Empoli, comunque. Io penso che un giocatore che se viene gestito in maniera giusta, anche a livelli importanti, squadre importanti, secondo me è un giocatore che ha un futuro davanti davvero importante. A chi lo accosti? A chi lo paragoni? Ma, sai, fare i paragoni è un po' difficile. In Italia, lo sappiamo, c'è carenza in quel ruolo. Un centrale difensivo, fra l'altro, giovanissimo e che sembra che magari ha 30 anni per come gioca. E quindi avere una dote dove veramente, io l'ho visto parecchie volte, situazioni nelle letture delle giocate, nell'anticipo della lettura, ecco, è una dote, secondo me, importantissima per un giovane, soprattutto chi copre quel ruolo che in Italia negli ultimi anni siamo un po' carenti. Grazie. Grazie.